Musica Ben a tutti ragazzi Oggi vi trovo con un nuovo commentary In compagnia di Oh lo conoscono tutti eh Guts734 Si un coglione Un coglione precisamente Allora Questo video è inutile Cioè non se serve un cazzo È una partita di merda Ok Praticamente ci troviamo in dominio La mappa lockdown È un dominio veterano E sto usando una classe Con un mp Silenziato E serie di uccisioni Elicottero Pave love E quant'altro Che non uso tanto Sei zitto Abbo Ah Ah eh Lui gioca su xbox Ditegli tutti che fa schifo Tanti mi piace Per dire che fa schifo L'xbox Comunque Eh boh Questa mappa In dominio veterano Inanzitutto Spacca St'arma Perché è fortissima Qua ho già iniziato A chiamare il primo copra Che ne chiamerò tipo Meno di 10 Tutta la partita Eh Boh Guts734 Posso solo chiamarti Guts Certo Certo Allora tu Come l'avete di sta partita Eh un po' spiserata Però l'avevo in me Dai Spiserata Come cazzo fa Eh Vabbè Non si dicono Parolacce Su YouTube Eh Farò bannare Chiamerò la polizia No Che polizia postale Vabbè Questo è un commento Devo parlare della partita Comunque Eh Ragazzi Quattro pen shot Faccio Dai Ma perché Perché sei così stupido Perché sei così Polizia Polizia Arrestatelo Presto Polizia Arrestatelo Non si può andare avanti così Non si può Sono 10 minuti No 9 minuti di video Io devo stare 9 minuti Con questo A fare questa cosa O scena Assurda No Comunque Gentilmente Arrestate Prego Sto malordo No Dai Allora Eh Praticamente La partita Boh Sarà uno degli ultimi video Che Di MV3 Cariccati però Perché Sto giocando a Black Ops 2 Ma Black Ops 2 Ragazzi È una cosa Allucinante Cioè Piena di bug Cioè Io ad esempio C'ho il cinema Buggato Che Registra le partite A rallenti Cioè Mi sembra di vedere Matrix Ragazzi Te l'ho giusto Te lo giuro Praticamente La partita Se tu la guardi Dal televisore Si vede normale No Quando tu la registri Diventa tutto A rallentatore Non si può fare Diventa tutto A rallentatore Se io Col programma Riesco a mettere Il video a velocità Normale No Però Il problema Cos'è Che registra L'audio per intero Ma Il video per metà Cioè Nel senso 10 minuti di video Tu convinto di registrare Tutta la partita Ma ne registrate Solo 5 minuti Però l'audio È intero Capito Quindi Non si può fare Poi Un'altra cosa Io Faccio Le mini clip Tipo 2-3 uccisioni 30 secondi di clip Non le posso caricare Perché Mi dice Che c'è una risoluzione Minore Cioè Minore di 480p Per caricare i video Ragazzi Cioè Fa Schifo Io spero che fanno Un mega aggiornamento Di quelli che Aggiustano tutte queste cose Perché io campo Di sta roba Adesso non posso più Campare Mi viene da piangere Gazz Parla un po' tu Gazz Che Gazz Giocando su L'Xbox Ho trovato Un bordello di bug In Mv3 Però Modalità sopravvivenza Che Cioè Non servono un cazzo Però Diciamo che Per chi gioca Quella modalità Lì Gazz Così Ha trovato un modo Tipo Jugger Non Noi gli sparano Sì Ho trovato di tutto Ho trovato Bug In cui Mi metto in delle zone Dove non vengo preso Da nessuno Tranne che dagli aerei Poi per gli aerei Usi Predator Quindi Non ho problemi Sì Quindi diciamo Hai trovato un bug Come spaccare i culi Ma Cioè È finita lì Cioè Vai avanti Però Sì Ma la verità Cazzo Sono un fototottenio Dei bug E questo Cioè Non è che Per i bug Non serve essere un genio Perché li trovi a culo No Ma devi sapere Come trovare Sapere Posizione Tipo Spero Come trovare Su decisioni Eh vabbè Anche quello È vero Cioè Tipo Io ad esempio In transit So un glitch So In transit Sarebbe la modalità Zombie Quella di Blecoce No Penso Sto La modalità Con i tramex Eh Inga Ti piacerebbe Col predator Prendo uno fuori mappa È stato epico Non so come ho fatto Vabbè Comunque Eh ragazzi In black ops 2 Veramente Ho fatto delle partite In black ops 2 Tipo 41 11 43 5 Quelle cose Non le posso Cavitare Ragazzi Vedrò Per fare A lungo Termine Non a breve Ma a lungo Termine In questa partita Ragazzi Sto continuando A uccidere gente E Vabbè Le prossime Volte Ma ancora Non è finita Non è finita Ragazzi Siamo a 6 15 15 E Dura 9 Minuto Circa Qua Inizio a chiamare Un pay vlog Come già ne ho chiamati E Uso l'arma secondaria Perché con la primaria A lungo distanza E' lucidesco Che Va Ha troppo rinchuro E Boh Ragazzi Te Qual è la tua classe Preferita? Eh Jacky Come al solito Ma se Io uso La V50 Eh sì La V50 No quella è Warrock La V50F Attenzione ragazzi Warrock Quello che ci ha insegnato Tutto ci ha dato le basi Per giocare a questi giochi Di merda Sempre che sono giochi Di merda Però ci piacciono Perché le cose Che fanno schifo A noi ci piacciono No No Comunque Io uso Il Barret 50 Senza mirino O col mirino Comunque Ah Kog No Dago Proprio Fa tanto Dago Non sai poi Non vengono Le film Beh Sì poi vogliono Il copyright E io non ce li do Comunque ragazzi Ehm Perché Suore il te Pronto? Eh Il bello Chi è la polizia postale Pronto Pronto È la polizia postale Ci ha intercettati Tutti Ragazzi Quanti credetemi Alla telecomunica Spacca i coglioni Anche il telefono Tutti i cazzi di giorni No Hai capito Mi ha chiamato La telecomunica Le richiede La sua collaborazione Per Non mi ricordo Che è un sondaggio Sì I sondaggi Perché praticamente Tu chiami 404 Qualcosa Poi loro ti richiamano Per il sondaggio Ah Su te Fisso Cazzo Eh vabbè Se te l'ho chiuso C'è crisi anche lì Comunque Qui ragazzi Sto facendo Cresione di uccisioni Ah diciamo Cioè la partita Finisce Finisce la partita Con un 59 12 Cioè 59 Kill 12 volte Sono morto Ehm L'ultima Il video sta Si sta concludendo Si sta volgendo al termine Quindi Abbiamo parlato di cazzate Parliamo di cose serie No Non parliamo di cose serie Non ci piace Marare di cose serie Ma sì Vabbè Qualcosa di serie Diciamo Cosa Ma tu dovresti vedere Come ho cominciato a giocare In sopravvivenza Eh Parte tutto con un Oh mio dio Ho una pistola in mano Cosa farò Con questa pistola Mi scusi Buon uomo Mi scusi Potrei aiutarmi No Disparmi Ragazzi La partita è finita La partita è finita Abbiamo vinto Dominio L'ultima uccisione Col mio cobra in aria Ragazzi Col mio cobra in aria Fa l'ultima kill Finisce qua la partita Con il 59-12 La mia squadra faceva Pena Anche l'altra Eh Però La mia squadra faceva Ma è schifo Cioè la mia squadra Il più forte Ha fatto 14 kill Ed è morto 20 volte No E boh Comunque ragazzi Il video è fatto a termine Ci vediamo al prossimo commentary Non con questo uomo Perché fa schifo Chiamiamo la polizia Chiamiamo la polizia Ciao Ti faccio vedere io adesso Voglio aggiungere Sam Sniper Shot Sì Ti ho appena detto Sam Sniper Shot Cazzo E sta a via Dei balordi numero 33 Ora ti frego io Bastardo Grazie a tutti